Eccolo ci siamo, sono il re, noi siamo qui con Antonio Pollino oggi, ecco i miei amici prozzi ofiziali, purtroppo non abbiamo potuto fare lo streaming, non ci hanno dato il permesso, ma la Juve c'è lo stesso, 2 a 1, 2 a 1, noi abbiamo potuto farvi vedere le giuntanze in Paolini, il Napoli è lì che aspetta, dateci il permesso, dateci il permesso per fare lo streaming, dateci il permesso, tutti e tre giù, basta, finita, tu non sei obiettivo E' il quarantottesimo, e' il quarantottesimo, e' finita, al 20 godi la Juventus, bella del primo tempo, soffre nella ripresa, ma vince grazie ai gol di Mitra Matri, di Lichsteiner, poi di mezza lo svantaggio Terò e si riporta zitta 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 zitta, senza i più giochi da commentare, aggiungerei che di questo periodo vanno di moda, aggiunge tre punti alla sua già sostanziosa classifica, grazie Juventus, ecco la qui, Juventus prima con il 50 giù